Federico, una partita che per 75 minuti ha raccontato una storia, una storia che stavate invertendo con un finale incredibile. Sì, una partita difficile sotto tutti i punti di vista, loro erano più grandi, una prima squadra, esperti, noi più piccoli e siamo partiti un po' colpire sbagliato, atteggiamento troppo rispettoso verso di loro, ci siamo fatti un po' picchiare fondamentalmente, però poi ci siamo ripresi bene nel secondo tempo. Nell'ottica anche di un percorso di crescita, questa che esperienza è stata per te e ma in generale anche per i tuoi compagni, oggi in campo c'era un'età mia idea molto bassa? Un'esperienza bellissima che rimarrà nel cuore di tutti, per tutti i miei compagni per me è una grande esperienza che è andata bene. Ti stai affacciando anche al mondo della prima squadra, sei spesso convocato, che stagione è questa per te? Una gran bella stagione che porterò dietro nel mio bagaglio, ringrazio il mister per le convocazioni, per gli allenamenti prima squadra e sto crescendo molto.